All'inizio mi ero stupito un pochino perché quando sono andato negli alberghi di quella parte mi hanno detto il prezzo in reale e quando sono andato negli alberghi di quella parte mi hanno detto il prezzo in peso uruguaccio la verità è che alla parte sinistra di questo palo, ecco, nella parte sinistra c'è l'Uruguay e alla parte destra c'è il Brasile quindi il viaggio comprende otto paesi alla fine, questo è il limite e come potete ben vedere lo zaino di sinistra è in Brasile e lo zaino di destra è in Uruguay Uruguay Brasile Che figata Che figatissimo Che figatissimo